Il mio punto di vista abbiamo fatto una buona partita, è mancato il risultato. Per noi è fondamentale, era fondamentale, lo sarebbe stato, i tre punti ci avrebbero messo in una condizione di assoluto vantaggio rispetto a quelli che stanno dietro e c'è un po' di amarezza perché quando giochi bene come ritengo abbiamo fatto oggi ne vai un po' così, con l'amaro in bocca, però è sempre un punto, non è da buttare e avanti con le prossime due, sarà dura ma ci proviamo. Ma avversario per avversario, ogni squadra sono tutte molto forti, hanno le loro caratteristiche, le prossime due che affrontiamo avranno le loro e ci proviamo. Ci concentreremo su questo, sull'avversario e fra due settimane teneremo le somme. Abbiamo cambiato degli uomini e questi ci hanno dato una mano ma non lo scopro certo io, insomma nel ritorno abbiamo fatto una valanga di punti per rapporto a quello che abbiamo fatto all'andata. Quindi sì, quello che dici è vero, abbiamo un buon gioco e non lo esprimiamo sempre, purtroppo. Grazie. Grazie a tutti.